Domenica di grande festa gallarate per celebrare il Lions Day dalla sinergia di 11 club che hanno rimesso al centro l'importanza della prevenzione sanitaria offrendo grazie alla disponibilità di medici volontari visite ed esami diagnostici gratuiti apprezzatissimi dalla cittadinanza intervallati da momenti di intrattenimento con la musica della storica banda di Crenna e delle giovanissime in voci del coro delle scuole Mediemaino. Oltre a raccontare con vari stand le attività del Lions Club abbiamo anche avuto la possibilità di fare degli screening medici rivolte alla popolazione in maniera piuttosto trasversale abbiamo ricevuto circa 200-250 persone soprattutto raccolte in famiglia direi che è stata una manifestazione che ha avuto grande successo in linea come numeri rispetto agli anni passati forse addirittura in aumento. a lei è piaciuta questa iniziativa? Sì molto. Molto importante soprattutto per la prevenzione. Che visita ha fatto? Dovrei fare l'ecodoppler carotideo essendo fumatore avendo varcato la soglia dei 60 anni. Per la buona riuscita della manifestazione ovviamente occorre ringraziare anche la SIA, la Croce Rossa Italiana Comitato di Gallarate e la Croce Rossa Militare.